Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, oggi il tema è controllo della lesmagnosi, proteggiamo i nostri cani ma anche i nostri cari. Un titolo un po' strano, vediamo di capire che cosa vuol dire e soprattutto di nuovo quale può essere il ruolo della medicina veterinaria nel proteggere non solo gli animali, il nostro mestiere, ma anche un po' gli esseri umani. Le lesmagnosi sono un grandissimo problema sanitario. Per gli animali ma anche per l'uomo hanno un ruolo importantissimo fra le malattie nelle aree tropicali e subtropicali. Più di 20.000 morti all'anno di lesmagnosi viscerali, più di 300.000 casi all'anno, più di un miliardo di persone vivono in aree endemiche a rischio di infezione. L'esmania è un problema, è un problema per gli animali, è un problema per l'uomo, è un pericolo di cui soprattutto nell'ultima decode ci siamo resi perfettamente conto. Si è stesa in nuove aree, ha aumentato la sua distribuzione e anche la sua prevalenza e quindi è un problema serio che affligge i nostri cani, ma vedremo anche la salute dell'uomo. Siccome il serbatoio è tradizionalmente rappresentato dal cane, è chiaro che noi dovremmo bloccare il passaggio dal cane ai flebotomi per impedire l'infezione dell'uomo, ma anche ovviamente l'infezione di altri cani. Come possiamo fare per risolvere questo? Abbiamo alcune opportunità rispetto al passato, abbiamo nuovi strumenti, soprattutto sappiamo forse come utilizzarli al meglio, anche se spesso non lo facciamo. Rinnovo l'invito a consultare il sito dell'ESCAP che ha proprio il ruolo di contribuire ad aiutare i veterinari nell'utilizzo corretto del farmaci che sono disponibili, ma soprattutto nell'approccio corretto anche nei confronti di quella che è una visione più ampia della veterinaria e quindi una visione veramente di One Health, di salute unica. Sul sito ci sono le linee guida, andate a vederle, ci sono quelle del controllo degli ectoparassiti, ne abbiamo già parlato l'altra volta, ma anche quelle del controllo delle malattie trasmesse da vettori. Qui quindi c'è la parte sulla dei smagnosi. Dicevamo noi vogliamo bloccare questo passaggio dal cane infetto all'uomo, come possiamo procedere? Possiamo procedere in molti modi. Il primo è bloccare i flebotomi. Se noi blocchiamo i flebotomi, automaticamente possiamo pensare, possiamo risolvere il problema. Come facciamo a bloccare i flebotomi, a mettere un divieto ai flebotomi? In passato si utilizzavano non i droni, come in questo caso per il trattamento delle colture, ma si utilizzavano aerei e elicotteri per distribuire antiparassitari. Negli anni 60-70 il DDT era di ampio uso. Era di ampio uso a livello ambientale ed effettivamente all'epoca portò probabilmente a una diminuzione della presenza di flebotomi, ma purtroppo di moltissimi altri insetti. E sappiamo tutte le ripercussioni che hanno avuto sul resto della fauna, nonché anche sulla salute umana. Quindi, oggigiorno, pensare di ricorrere a questi sistemi è assolutamente impensabile. Non è neanche da proporre. E non è da proporre il pensiero di un intervento a livello ambientale, come magari invece siamo abituati a fare con altri vettori, con altri ditteri, come per esempio le zanzare. Ma per il semplice motivo che le zanzare hanno una fase della loro vita, la fase larvale di pupa, che si svolge nell'acqua. Quindi hanno bisogno di acqua. Ci sono degli spazi ristretti, nel tempo e appunto anche nello spazio, in cui io posso intervenire con dei trattamenti. Non devo trattare tutto il territorio. Per i flebotomi non è assolutamente così. Queste sono larvi di flebotomi. I flebotomi vivono su sostanza organica, umida, e quindi non ho dei punti come potrebbero essere per le larvi di zanzara, lo stagno, la risaia, il tombino su cui pensare di intervenire. Ma ovunque ci sia della sostanza organica posso avere delle larvi dei flebotomi, posso avere dei focolai larvali. E quindi l'idea di intervenire a livello ambientale per controllare la presenza dei flebotomi è assolutamente inapplicabile. Le linee guida ci danno delle indicazioni, per esempio l'applicazione è quella di utilizzare dei repellenti insetticidi sotto varie forme durante la stagione di presenza dei vettori che è estremamente variabile. In Italia possiamo pensare che in alcune aree si possa partire già ad aprile, banalmente parlando con i colleghi siciliani, l'area di Palermo è una delle aree in cui per primi compaiono i flebotomi in Italia, è un'area molto molto calda, e può continuare fino a ottobre, addirittura fino a novembre. Li utilizziamo per cosa i piretroidi? Se ci fermiamo a questo pezzo delle linee guida li utilizziamo per proteggere il cane sano. Io voglio che il cane sano non venga punto dai flebotomi. Potrei farlo pensando di creare un muro, ma dopo Berlino non va piano tanto di moda, anche se da qualche altra parte nel mondo qualcuno si sta industriando per. Oppure proteggerli con delle zanzariere, come succede per l'uomo in molte parti del mondo, per esempio per la protezione da malaria. Mantenere il cane in casa è sicuramente una raccomandazione utile, ma non possiamo pensare di mantenere un cane tutta la notte sotto una zanzariera. Allora dobbiamo pensare a una strategia in qualche modo alternativa. Allora iniziamo a pensare a come fanno i flebotomi a trovarci, a trovare il cane, a trovare il loro fornitore serale o notturno di sangue. I flebotomi si muovono e il primo indicatore per loro della nostra presenza è l'odore. Ognuno di noi produce degli odori, dei feromoni. Questi non stanno tutti intorno a noi come banca mediolanum, ma siccome l'aria è in movimento creano un cono di odore. I flebotomi, muovendosi, intercettano il cono di odore, si muovono, escono, rientrano e vanno avanti così a zigzag, finché si avvicinano. Quando sono molto vicini, a quel punto però effettivamente un po' banca mediolanum l'odore lo è. E un po' tutto attorno a noi e renderebbe difficile al flebotomo far capire dove posarsi, dove andare a cercare il posto dove fare il pasto di sangue. E a quel punto allora passano dalla modalità odore alla modalità CO2. Tanto più alta la concentrazione di CO2, tanto più vuol dire che io sono vicino al mio ospite. E così si avvicinano di molto. Quando sono veramente vicini a noi, a quel punto però anche lì la concentrazione di CO2 è alta e diventerebbe difficile per un flebotomo capire dove effettivamente mi posso posare per fare un pasto di sangue. E a quel punto passo in modalità temperatura e umidità relativa. Perché immaginatevi, io devo fare un pasto di sangue e per fare il pasto di sangue ho bisogno che ci siano dei vasi superficiali e dell'acute sottile. La temperatura mi dà un'indicazione di vasi superficiali, tanto più è elevata la temperatura, tanto più sono superficiali i vasi. L'umidità relativa mi dice che la pelle è sottile. Tanto più l'umidità relativa è elevata, tanto più la pelle è sottile, lo strato corneo è sottile e ho traspirazione. Quindi il primo indicatore che permette ai flebotomi, ma tutti gli altri ditteri, pensiamo anche alle zanzare di trovarci, è l'odore. E' per questo che noi utilizziamo delle sostanze che hanno un odore forte. L'odore forte di queste sostanze è la repellenza. La repellenza mi mimetizza. Tutti noi, d'estate, quando ci sono le zanzare, siamo abituati a spruzzarci i vari composti, dall'olio di geragnolo, alle spiraline, sulla finestra, alle varie bombolette, alle varie lozioni, e queste hanno proprio quest'azione. Sono estremamente volatili, coprono il nostro odore e rendono difficile al flebotomo capire che ci siamo noi, proprio perché mascherano il loro odore. E' chiaro che per essere molto volatili, vuol dire che saranno anche poco persistenti. E in effetti, se ci pensate, bisogna spruzzarsi abbastanza sovente, comunque tutte le sere, con questi principi, con questi composti, proprio perché essendo molto volatili non persistono a lungo. E questa è un po' la vera repellenza, diciamo quella che mi mimetizza, cioè impedisce di trovarmi, però è poco persistente. L'alternativa è dissuadere i flebotomi dall'avvicinarsi. Cioè, mi individuano, mi vengono vicini, ma quando sono un po' lì sul cancelletto, vengono dissuasi da questo. Gli faccio vedere i denti. E questo è quello che invece chiamiamo effetto antifeding. Nella pratica rutinaria, poi repellenza, effetto antifeding, vengono utilizzati un po' come sinonimi, ma quando utilizziamo dei composti, normalmente, per proteggere i cani dalla puntura dei flebotomi, tendenzialmente quello che sfruttiamo è l'effetto antifeding, che è proprio quello di dissuadere. Riporto sempre quest'esempio, questa immagine, di quelle che vi arrivano tutti i giorni su WhatsApp. A me è piaciuta molto, perché questo tipo dice, da quando ho iniziato a impacchettare la spazzatura in questo modo, i vicini mi rispettano di più, mi salutano con gentilezza e non tengono più la musica alta. Ecco, diciamo che questa è un'applicazione dell'effetto antifeding. Cioè, convinco l'altro, il flebotomo per l'ismania, che anche se mi ha individuato, è meglio comunque che vada da un'altra parte. Utilizziamo per il loro effetto antifeding soprattutto i piretroidi. I repellenti, abbiamo detto, sono quelli che possiamo utilizzare anche su di noi, ma sono poco persistenti e quindi vanno somministrati frequentemente, tutte le sere banalmente, molti non riescono addirittura a coprire le dieci ore di persistenza dei flebotomi, le dieci ore di notte. Quelli che noi utilizziamo per l'effetto antifeding sono soprattutto i piretroidi, molecole scoperte oramai già una quarantina di anni fa, quasi una cinquantina alcuni. Li utilizziamo perché? Perché i piretroidi hanno una caratteristica, oltre a quella che abbiamo detto dell'effetto antifeding, per noi molto utile. I piretroidi sono lippiofili e si legano allo stato lipidico dell'acute e dei peli. Li possiamo utilizzare sia come spray, sia come spot-on, sia come collare. Le tre applicazioni partono da principi diversi. Sullo spray il piretroide è in una soluzione acquosa, quindi come spruzzato è immediatamente disponibile, ma quello che c'è resta e quindi hanno un'azione che è di 10-15 giorni al massimo. Lo spot-on invece si mette sulla cute dell'animale, abbiamo detto l'altra volta, viene assorbito dalle ghiandole sebacee e poi rilasciato lentamente. E questo fa sì che riesca a mantenere il piretroide, in questo caso tutti gli spot-on sono a base di permetrina, riesca a mantenere la permetrina a concentrazioni adeguate a livello di cute e a livello di pelo, e quindi questo impedire che ci sia il passo di sangue, mentre invece il collare rilascia continuamente il farmaco che si diffonde sul corpo dell'animale e si lega allo stato lipidico. I piretroidi hanno una grande efficacia, quando vengono testati in laboratorio hanno un'efficacia di repellenza antifidin molto molto alta, vedete quasi sempre superiore al 90%, con punte addirittura a 15 giorni del 99%. Questa repellenza molto alta viene valutata come? Viene valutata in laboratorio, su un cane trattato, i cani non trattati, ovviamente si fa il confronto, dopodiché si mette un certo numero di flebotomi nella gabbia con l'animale anestetizzato, e si va a vedere quante femmine hanno fatto il pasto di sangue nei cani trattati e nei cani non trattati. E' un aspetto molto importante perché questi ovviamente sono i numeri che noi otteniamo in laboratorio. Quando andiamo sul campo poi non dobbiamo stupirci se per tutta una serie di cause spesso l'effetto antifidin non si rileva con valori così alti e quindi non ha una protezione del 99-90%. Mediamente si è visto, dipende da moltissimi fattori, l'effetto di protezione medio sul campo è attorno all'80-85%, proprio perché sul campo possono esserci più di 100 flebotomi, che sono quelli che normalmente vengono messi sui cani, e comunque tenete conto che un cane può venire appunto da centinaia di flebotomi durante una notte. Quindi se anche io ho una repellenza del 98%, vuol dire che comunque 1-2 mi pungono. La protezione assoluta 100% non esiste. Il rischio zero, come stiamo vedendo in questi giorni anche su di noi, non è una cosa che la natura ha contemplato. Oltre a questo effetto di repellenza, che comunque è molto molto alto, e quello è importante, quello per cui noi trattiamo i nostri cani, esiste però un altro effetto. Ed è l'effetto insetticida. Cioè, è vero che la maggior parte dei flebotomi non fanno il pasto di sangue, perché si avvicinano, ma sono spaventati dal messaggio che i piretroidi gli mandano. Ma una minima parte di questi può comunque farlo. Immaginatevi, i flebotomi sono presenti in zona endemica da maggio fino a ottobre almeno, abbiamo visto può esserci anche la variazione aprile-novembre per alcune aree in alcuni anni, ma capite che in tutti quei mesi nulla può impedire che qualche flebotomo comunque faccia un pasto di sangue. Ma i piretroidi, assieme ad altre molecole che spesso vengono insetticida, che spesso vengono abbinate con il trattamento, hanno anche un altro effetto. Quello di far morire le femmine che hanno comunque fatto il pasto di sangue. E quello che vedete è che comunque la mortalità, l'efficacia in questo è comunque molto molto elevata. Quindi i piretroidi sono molto utili, assieme ad altre insetticida che si usano, perché? Perché da un lato abbiamo detto hanno l'effetto antifeeding repellente che impedisce ai flebotomi di fare il pasto di sangue. Ma comunque, e quindi di infettare un cane che al momento non è infetto, un cane sano, ma se comunque c'è un cane ammalato, i piretroidi da un lato riducono il numero di flebotomi che fanno il pasto di sangue, perché abbiamo visto un'elevatissima azione antifidi, ma se anche qualche flebotomo riuscisse comunque, come in questo caso, a fare il pasto di sangue, lo portano a morte nell'arco delle 48 ore. Siccome tendenzialmente i flebotomi fanno il pasto di sangue per l'uovo deposizione e da un uovo deposizione a quella successiva, quando verrà effettuato un altro pasto di sangue, passano dai 6 ai 10 giorni, è chiaro che se la femmina di flebotomo muore nelle 24-48 ore, la possibilità che trasmetta il parassita a un altro cane diventa pari al zero. E quindi questo è il secondo motivo per cui occorre trattare i cani, ma è il motivo per cui occorre trattare soprattutto i cani positivi. Noi siamo abituati a pensare ai piretroidi come farmaci da impiegare per la protezione del cane e quindi da impiegare sui cani non infetti. Bisogna pensare invece che vanno utilizzati anche, o se non dire primariamente, sui cani invece positivi, perché così facendo si riduce il numero di flebotomi che si infettano e anche quelli che si infettano muoiono prima di riuscire a trasmettere l'infezione ad altri soggetti. Questo è un effetto molto importante dei piretroidi. Già oramai 20 anni fa è stato fatto questo lavoro, pubblicato poi nel 2002, che ha dimostrato che l'utilizzo dei piretroidi, all'epoca era un collare impregnato nei cani, aveva ridotto in maniera drastica la leismaniosi dei bambini in un villaggio indiano. Quindi una dimostrazione di quanto il trattamento del cane sia importante anche per ridurre il rischio di infezione umana. Abbiamo detto l'utilizzo dei piretroidi con azione repellente insetticida è un fattore importante, però noi possiamo pensare anche, vogliamo eliminare il parassita, un po' come il Covid-19, vogliamo eliminare anche leismania. Abbiamo, rispetto al passato, degli strumenti, al di là del trattamento che comunque riduce il parassita in circolo, perché i trattamenti hanno un'azione che o è parassiticida o quantomeno leismaniostatica, come per esempio l'allopurinolo, quindi questi riducono la concentrazione del parassita in circolo. L'altra possibilità è che sono disponibili attualmente due vaccini nell'Unione Europea. Ci sono diverse possibilità di utilizzare diversi tipi di vaccini che possono venire utilizzati contro leismania. Se siete interessati c'è quest'articolo interessante dove vengono riassunti un po' i lavori disponibili e le conoscenze disponibili, vengono anche trattati i due vaccini attualmente disponibili in Italia. Un aspetto importante della vaccinazione è che comunque si è visto che vaccinando i cani si riduce la carica parassitaria, meno parassiti liberi nel sangue e quindi meno probabilità che le femmine di flebotomo si infestino e se lo fanno comunque si infestano con delle cariche più basse e quindi anche quando infesteranno un nuovo ospite lo faranno con un numero di parassiti inferiore. Ma la base è che comunque la strategia più efficace è la protezione del collare con i repellenti insetticidi che siano collari, spoton o spray e oltre all'utilizzo dei piretroidi la vaccinazione può presentare una soluzione alternativa ma alternativa vuol dire di affiancamento nel senso che il piretroide resta comunque la soluzione di base. A questa, se ci sono delle condizioni epidemiologiche che lo indicano, lo suggeriscono si può abbinare la vaccinazione. Recentemente è stato assegnato il Nobel a dei parassitologi che, Campbell o Mura che scoprirono l'ivermettina e soprattutto utilizzarono l'ivermettina per il controllo delle parassitosi nell'uomo sappiamo che i lattoni macrociclici sono stati una grandissima innovazione per quel che riguarda la medicina umana ma da quella sono poi passati alla medicina veterinaria e hanno rappresentato per noi veramente una grandissima innovazione e la possibilità di controllare in modo efficace moltissimi parassiti sia per quel che riguarda il trattamento sia banalmente, pensate, a filaria per quel che riguarda la profilassi. Sono passate molte decadi dalla scoperta dei lattoni macrociclici e da allora l'unica forse grande innovazione nel campo dei farmaci delle categorie, delle classi di farmaci veterinarie sono stati le isoxazoline infatti tutti i prodotti del commercio finiscono in alaner questo è veramente come questo è il più grande cane del mondo un alano via alaner sono stati veramente la più grande innovazione delle ultime decadi per quel che riguarda il trattamento e la profilassi delle parassitosi negli mali domestici li utilizziamo come insetticidi sistemici qualcuno qualche anno fa aveva proposto di utilizzarli anche per il controllo dei flebotomi vettori di lesmagnosi ci sono stati una serie di lavori che hanno dimostrato che effettivamente queste molecole hanno un'azione importante perché perché se il flebotomo fa un pasto di sangue sul cane infetto assume anche comunque l'isoxazolina e viene anche in questo caso a morte nell'arco di breve tempo e comunque prima di del pasto di sangue successivo quindi prima di riuscire a trasmettere nuovamente l'infezione a un nuovo soggetto quindi questo è uno dei motivi per cui da più parti si sta suggerendo soprattutto nei cani che sono infetti nei cani positivi il trattamento comunque anche con isoxazoline durante la stagione di presenza dei flebotomi non tanto per proteggere il cane ma quanto per evitare che possa fare da reservoir per i vettori per nuove infezioni infatti ci si è mossi dall'idea di trattare per proteggere il cane evitare che si infetti all'idea di trattare il cane infetto per evitare che possa essere lui a fare un po' da untore diciamo per dirla in termini quotidiani una sorta di quarantena farmacologica per cui trattando il soggetto positivo questo non riesce a infettare i flebotomi o meglio i flebotomi che si infettano muoiono e quindi non possono trasmettere ad altri soggetti l'infezione è un aspetto importante talmente rilevante che addirittura c'è chi propone l'uso delle ixosazoline che nascono come farmaci veterinari per il controllo delle malattie trasmesse da vettori nell'uomo quindi la medicina veterinaria potrebbe restituire il favore fatto restituire la medicina umana il favore fatto da questa con l'ivermettina perché trattando l'uomo a questo punto i soggetti infetti potrebbero venire punti dalle zanzare penso banalmente a malaria ma le zanzare venendo a morte nell'arco di poche ore non sarebbero in grado di trasmettere poliplasmodio a nuovi soggetti e quindi è un'idea che sta prendendo piede e ci sono già tutta una serie di prove e studi che dimostrano come in alcune zone si potrebbe addirittura arrivare a diminuzioni del 70 ma addirittura fino al 90% della trasmissione di tutta una serie di malattie trasmesse da vettori qua fondamentalmente questa mappa è relativa alla malaria ma ce ne sono altre relative ad altre infezioni umane in conclusione vi invito nuovamente a andare a leggere a consultare le linee guida e a distribuire ai proprietari le raccomandazioni generali dove si parla anche di lesmania ma proprio perché contengono secondo me un messaggio fondamentale un messaggio che non mi stancherò mai di ripetere è che quello che c'è è vero un'unica medicina e questo tutti oggi lo diciamo ma c'è un'unica veterinaria non c'è una sanità pubblica o una veterinaria clinica degli animali d'affezione c'è un'unica medicina veterinaria che sa che proteggere la salute degli animali d'affezione significa anche salvaguardare la sanità pubblica la salute dell'uomo e di conseguenza anche il legame che c'è fra uomo pronto Ezeo si riesci ad attivare la camera non riesco ad attivare la camera aspetta perché me la non so perché mi nasconde sempre il zoom stop my video ok perfetto dimmi quando possiamo partire quando vuoi ok partiamo pure buongiorno a tutti allora ho visto che sono arrivate delle domande quando è più indicata la vaccinazione durante la vita del cane direi se si ritiene che il cane sia un soggetto per cui la vaccinazione è uno degli strumenti da utilizzare il più presto possibile e la vaccinazione va comunque ripetuta ogni anno quindi inizierei veramente appena possibile tenendo conto di quelle raccomandazioni che ci sono nei bugiardini e cioè il fatto che il cane vaccinato deve essere comunque un cane negativo su questo poi ci sono delle pubblicazioni scientifiche di stessi studi di registrazione hanno vaccinato cani comunque positivi e non è successo nulla ci sono molti colleghi soprattutto stranieri che raccomandano apertamente in alcuni casi anche l'utilizzo della vaccinazione in soggetti positivi però questo è comunque un utilizzo fuori fuori etichetta per gli articoli mandatemi una mail e ve li giro senza senza problemi la vaccinazione nei mesi restando sulla vaccinazione nei mesi più freddi dell'anno in teoria bisogna fare la vaccinazione tenendo conto di quanto succede dopo la vaccinazione quindi c'è tutto un processo dei due vaccini uno ha bisogno di un mese l'altro ha bisogno di somministrazioni ripetute quindi ci mette di più questo vuol dire che tendenzialmente bisognerà partire con la vaccinazione in febbraio marzo comunque aprile poi appunto dipende moltissimo se uno in un'area in cui i flebotomi possono già comparire a inizio stagione o nel senso di aprile a iniziare la stagione precocemente oppure più tardi sulle domande sul sul seresto il seresto non ha dei lavori su repellenza o effetto antifeeding tant'è che è registrato se guardate per il controllo della lesmagnosi perché si è visto sono gli studi che qualcuno citava del collega Domenico Otranto si è visto che trattando dei cani in canile con il seresto c'è stata una protezione del 100% nessuno di questi si è ammalato si è positivizzato per l'esmania mentre gli altri si sono positivizzati non ci sono degli studi che dimostrino che questo è legato a un effetto antifeeding o comunque a un effetto repellente per i soggetti a questo punto tutte le varie essenze vegetali tutti i vari oli che hanno quest'azione veramente repellente di tenere lontano dall'animale impedirgli di individuare del soggetto il domperidone è una scelta alcuni lo utilizzano altri no non agisce sul farmaco dovrebbe stimolare la risposta immunitaria in teoria tutto quello che stimola la risposta immunitaria dell'ospite è benvenuto in fin dei conti un po' l'idea di base anche dei vaccini ci sono due lavori in cui si è vista l'efficacia del del domperidone però non non ce ne sono più stati altri quindi se uno si basa su quei due su quei due lavori c'è una certa efficacia malattie autoimmuni regati al vaccino non ci sono side effects da questo punto di vista allora tenete conto di un di un aspetto esiste un sistema di reportistica a livello europeo che funziona molto bene in Italia è da noi poco utilizzato ma fra i vari effetti collaterali che ci sono non è riportato quello del rischio di malattie autoimmuni per nessuno dei due vaccini la possibilità di sviluppare gli effetti della patologia in seguito al vaccino esiste perché sapete che i vaccini hanno una protezione che possiamo considerare attorno più o meno al 70% ma non è una protezione assoluta su questo vorrei ciascuno di noi riflettesse sul fatto che banalmente si sta sperimentando da un paio d'anni un vaccino per l'uomo contro malaria che ha un'efficacia del 60% e se dovesse confermare gli studi negli studi sul campo la validità di quanto visto nelle prove sperimentali sarebbe una grandissima innovazione e quali sono gli strumenti per valutare la necessità di vaccino e lì è chiaro se un animale va due o tre mesi al mare ogni anno è consigliata se va in un'area endemica due o tre mesi sono comunque moltissimo perché immaginate normalmente stagione dei vettori possiamo considerare fine maggio comunque giugno luglio agosto settembre è un pezzo di ottobre se su cinque mesi ne passo due o tre in un'area endemica sicuramente diventa un pericolo tanto per darvi un'idea aspettate vi mando la mail così ce l'avete tutti quando iniziarono i primi casi i primi focolai qua in provincia di Torino facciamo un un confronto comparando la sieroprevalenza nei soggetti che non si erano mai mossi dall'area rispetto a soggetti che invece viaggiavano con i loro proprietari in aree endemiche perché per noi voleva dire fondamentalmente la Liguria e il problema esattamente che le prevalenze nei due casi erano esattamente la stessa cioè il cane che stava in queste nuove aree endemiche aveva la stessa prevalenza sieroprevalenza del cane che si muoveva nelle aree a rischio quindi il problema secondo me è da valutare caso per caso ma è chiaro che in un soggiorno di due o tre mesi al mare sicuramente io lo tratterei come se vivesse perennemente nell'area endemica sulla diffusione di Anna della Ismagnosi ci sono degli studi ci saranno credo forse anche altri webinar e sicuramente in espansione in espansione sia come areale geografico sia soprattutto espansione in aree non solo areale geografico nel nord Italia ma anche in molte zone non più con caratteristiche pedemontane o montane o collinari come avveniva in passato quindi anche in alcune aree pianeggianti l'uso contemporaneo di vaccino ad un periodone non ci sono lavori che dicano se funziona o meno e anche qua è chiaro che se devo scegliere di vaccinare o non vaccinare un soggetto devo attenermi al bugiardino se il cucciolo è nato a gennaio febbraio diventa difficile rispettare gli otto mesi se fosse nato a novembre a quel punto io comunque magari potrei pensare di vaccinarlo in tarda stagione verso fine aprile o comunque maggio aspettate che scorro ok sullo spot on e il sapone ok allora il problema dello spot on e del sapone è legato al fatto che il sapone asporta anche lo strato lipidico e quindi con questo il farmaco che è presente nello strato lipidico se voi guardate dicevamo l'altra volta per le zecche ma vale anche per i flebotomi nella maggior parte dei casi per gli spot on le ditte hanno fatto delle prove trattando il cane con lo spot on e facendo un lavaggio a tre quattro giorni e poi andando a verificare l'efficacia dello spot on fino a fine durata del trattamento di ventotto giorni o un mese il problema di base è che si è visto che non c'è una diminuzione di questo dell'effetto insetticida o anche dell'effetto antifidin ma semplicemente perché il farmaco come abbiamo detto funziona lo spot on viene assorbito dalle ghiandole sebacee risputato fuori con il sebo e quindi ridistribuito è chiaro che il problema in questo caso però è diverso faccio fare il bagno al cane poi aspetto tre o quattro giorni per applicare l'antiparassitario in questo caso vuol dire che comunque io lascio tre o quattro giorni il cane non protetto dall'antiparassitario è vero che c'è necessità di far ricostituire comunque un minimo di fil lipidico però in quel caso se uno aspetta tre o quattro giorni magari potrebbe aver senso anche solo dare una spruzzata con uno spray perché in questo modo si va a distribuire uniformemente il farmaco il protezione per le smagnosi visto che i piretroidi sono off limits si può utilizzare o i repellenti c'è un lavoro che suggerisce l'utilizzo del di un collare a base di flumetrina perché si può utilizzare anche sui gatti però non c'è anche qua la dimostrazione dell'effetto repellenza ma soprattutto il problema è dell'effetto repellenza e dell'effetto insetticida successivo ovvero i gatti con le smagnosi sono veramente una non dico una perla rara ma perché la vedrei da parassitologo ma un caso clinico molto molto raro il problema dei gatti è che potrebbero comunque rappresentare potenzialmente dei serbatoi a questo punto avrebbero bisogno di un farmaco che abbia un'azione insetticida cioè se anche il flebotomo fa il pasto di sangue sul gatto e si infesta viene comunque a morire e purtroppo non abbiamo prodotti ad oggi in cui questo è stato dimostrato i vaccini in uso se cross reagiscono con i test di screening uno sicuramente no perché non ha è costituito da degli antigeni ricombinanti che quindi non si ritrovano nella stessa formulazione nella stessa composizione in caso di infezione naturale e quindi permette di discriminare il soggetto vaccinato dal soggetto infetto tant'è che si parla appunto di vaccino diva nell'altro caso questo non è garantito anche se a distanza di tempo si è visto che la concentrazione di anticorpi scende a livelli molto molto bassi per cui molte volte non è rilevabile sui cani ammalati è quello che vi dicevo ci sono alcuni autori qualcuno di voi ha scritto anche il nome di Ferrer ma anche Javier Rura è uno di questi che suggeriscono comunque l'utilizzo della vaccinazione nei cani ammalati perché hanno osservato un miglioramento anche clinico sull'Eismania io dico sempre bisogna partire da un presupposto quello che noi facciamo aiuta il cane a contrastare il parassita sviluppare una risposta in grado di proteggerlo dal parassita ma ci sono cani che hanno comunque una risposta che è sbagliata non riescono comunque a farlo e questi sono quelli per cui il trattamento alla fine non funziona e quindi ci sono poi successive recidive e quelli che pur con tutti i trattamenti alla fine vengono a morire devo dire da questo punto di vista non sono un clinico ma l'aspetto fondamentale è intervenire il più in fretta possibile il cane che muore di lesmagnosi io dico sempre si suicida alla fine non muore per i danni che fa il parassita questo non è l'esmania non è un parassita che fa danni di suo e un parassita che fa sì che l'animale se risponde in modo sbagliato si uccida con gli immunocomplessi i cani muoiono di insufficienza renale e qui ci possiamo ricollegare alla domanda con che frequenza il cane va sottoposto al test proprio perché tendenzialmente i test di screening devono servirci per individuare il soggetto nella fase iniziale della malattia e quindi intervenire prima che ci siano dei danni che a quel punto diventano poi irreparabili allora sui lavori sulle protezioni ci sono dipende moltissimo l'effetto protettivo di di un vaccino tendenzialmente dicevamo sono attorno al 70% per un vaccino che in commercio da moltissimi anni ci sono molti più dati molta più reportistica perché sono stati analizzati molti più dati per altri meno ad oggi la l'efficacia e comunque aspettate che state rispondendo in fretta tendenzialmente affidabile 70-80 diventa veramente difficile valutarlo io ho sempre detto che banalmente volessi potrei mettere in commercio della fisiologica dimostrando che è efficace al 100% perché ho dei cani che stiamo seguendo da anni che hanno una fortissima risposta cellulo-mediata sicuramente non si ammalerebbero mai e quindi a quel punto potrei veramente fargli della fisiologica e dimostrare che grazie alla fisiologica non si sono ammalati quando ci sono poi dati di campo bisogna veramente andare sui grandi grandi numeri per poter dimostrare qualcosa se si possono usare afloxalaner o gli ultralaner e gli antifeeding sì ed è una delle cose che si stanno raccomandando in moltissime zone soprattutto per le zone cioè soprattutto per le zone con ovviamente maggiore prevalenza ma soprattutto per i cani che sono positivi vorrei che il concetto fosse ben chiaro qua qualcuno dice che ripeto la stessa cosa tre volte ma forse è un problema di linee vorrei che fosse ben chiaro ma questo invece lo ripeto volutamente che l'utilizzo di tutti gli alaner e non per proteggere il cane ma per far sì che se il cane viene punto il flebotomo muoia e quindi non possa trasmettere l'infezione quindi questo è un trattamento che va fatto fondamentalmente sui soggetti positivi ed è chiaro che fatto nel medio periodo porta anche in un'area ad una diminuzione di flebotomi soprattutto se non ci sono altre specie animali è chiaro che se ci sono altre specie animali i flebotomi vanno a fare il passo su quelli e quindi la dinamica di popolazione non è assolutamente influenzata se i cani e gatti sono conviventi come si gestisce la questione per metrina io ti posso rispondere Francesca come l'ho sempre gestita io da vent'anni a questa parte tratto i cani i cani tratto i cani normalmente i cani vivono in casa con i gatti e non ho mai avuto problemi magari tengo un attimo lontano i gatti dal cane il giorno del trattamento lo faccio al mattino e per quel giorno cerco di evitare che i gatti vadano a strusciare a leccare il cane dopodiché problemi non ce ne sono mai stati tenete conto che l'assorbimento per cutaneo dei piretroidi della permetrina meglio perché il dato si riferisce a quello è estremamente basso meno del 3% quindi il problema di base è il gatto che lecca l'area in cui abbiamo somministrato lo spoton e qua di nuovo rinnovo il suggerimento di spiegare bene ai proprietari come va applicato e cioè il fatto che questo va applicato sulla cute e non sul pelo anche perché sulla cute viene assorbito molto rapidamente di quanto non avviene se invece si fa sul pelo se il cane ha necessità di shampoo settimanale o bisettimanale in questo caso tocca passare a un prodotto spray a una permetrina spray perché a questo punto io gli faccio lo shampoo e posso a quel punto trattare l'animale e l'efficacia immediata sul se vanno in acqua direi che lo spoton non c'è necessità di abbreviare i tempi ma di nuovo io inviterei a guardare quelli che sono i tempi perché non tutti hanno gli stessi tempi ce ne sono alcuni che hanno 28 giorni alcuni che hanno 30 giorni alcuni che hanno alcuni che hanno invece tre settimane quindi se tre settimane resta tre settimane se 28 giorni resta 28 giorni non starei a farmi problemi di questo tipo collare spoton e l'approccio cintura e bretelle cioè sono sicuro a questo punto che i pantaloni non mi cadono se devo scegliere di abbinare i farmaci però a questo punto andrei su un prodotto topico che sia collare ospoton e su un farmaco sistemico di nuovo quando scegliamo un antiparassitario esterno bisogna pensare che abbiamo il problema dei flebotomi ma ce ne sono tutta una serie di altri quindi devo pensare magari se abbino composti diversi di coprire il più possibile lo spettro degli ectoparassiti che può essere presente in teoria sì ogni anno prima del test di richiamo della vaccinazione è necessario fare un test proprio perché sul bugiardino le raccomandazioni sono la vaccinazione va riservata per cani che sono negativi l'esperienza di lesmagnosi nel gatto noi abbiamo testato già da diversi anni gatti in un'area endemica e abbiamo visto che hanno una prevalenza inferiore a quella dei cani che lì era attorno al 60% prevalenza di infezione vuol dire la PCR positiva però c'era comunque il 30% di gatti positivi con il 30% di gatti positivi vedi uno due gatti all'anno con lesmagnosi e in genere sono forme nodulari che colpiscono o il muso o la pinna dell'orecchio o banalmente la zona attorno al tartufo nella maggior parte dei casi è asintomatica una delle cose che però abbiamo notato è che se vado a cercare effettivamente non in tutti i casi è così asintomatica nel senso che c'è una correlazione fra avere lesmagna in circolo o meglio il DNA di lesmagna in circolo fatto con la PCR e avere un quadro annemico nel gatto quindi probabilmente è aclinico e non asintomatico durata efficace efficace rispetto alla durata del bugiardino su quello io sarei decisamente tranquillo perché questo è un aspetto importante che non insegniamo non spieghiamo ai colleghi ma la registrazione del farmaco ha tutta una serie di procedure e le procedure sono sempre basate sul fatto di tenersi dalla parte della ragione quindi se la durata è di 28 giorni vuol dire che sicuramente si è visto che fino a 28 giorni funziona il test rapido Elisa ha senso è un test di screening ha senso per per quello cioè è un test che devo utilizzare come primo screening e non fare mai un totale affidamento su quello soprattutto se sto trattando un caso clinico la titolazione mi può essere molto utile più che altro perché la titolazione mi può servire poi nel follow up successivo i test scegliete voi quello che volete l'immunofluorescenza resta un po' il gold standard dal punto di vista clinico per la diagnosi rapida ce ne sono diversi se andate a vedere se mi mandate una mail vi posso mandare anche delle pubblicazioni ne abbiamo testati diversi la loro sensibilità e specificità è molto elevata ma di nuovo nessun test ha il 100% di efficacia esperienze di vaccinazione per le smagnosi in cani epilettici ci sono dei casi e ad oggi nessuno ha segnalato degli effetti collaterali legati al fatto che i cani fossero epilettici esatto come dice Elisa le isosazoline si usano perché uccidono le zanzare o i flebotomi dopo il pasto quindi sono consigliate proprio per evitare che i soggetti ammalati possano fungere da serbatoio ed è questo il motivo per cui vi dicevo in Africa li stanno proponendo nell'uomo nel cane vanno quindi sempre associate le compresse o allo spoton o al collare o all'utilizzo spray il richiamo per il test si bisogna sempre fare il bisognerebbe sempre fare il test prima e i test rapidi in un caso assolutamente non allora ci sono dei test rapidi che non interferiscono con nessuno dei vaccini altri che potrebbero interferire se il vaccino se il vaccino non è stato fatto da molto tempo per quel che riguarda il vaccino fatto con antigeni secreti e scretti per il vaccino invece che è fatto con antigeni ricombinanti il vaccino Diva per quello non c'è nessuna possibilità di reazione crociata allora modificare i dosaggi Advantix per aumentarne l'efficacia allora qua ci sono due possibilità di interpretazione della domanda cioè se somministrarne di più o se cambiare il dosaggio delle pipette una delle prove che si potrebbero fare è aumentare il dosaggio della permetrina per esempio nello spoton e vedere se questo porta a una maggiore persistenza e questo si può ottenere in due modi o aumentando la concentrazione della permetrina presente nella stessa quantità di spoton oppure aumentando semplicemente la quantità di spoton che io vado ad applicare se guardate i diversi spoton disponibili in commercio ce ne sono cioè hanno concentrazioni di permetrina differenti ce ne sono alcuni per esempio che hanno una concentrazione di permetrina per millilitro molto più bassa rispetto agli altri ma hanno una maggiore quantità di spoton in ogni fialetta e questo fa sì che si venga a compensare l'effetto il problema e che non lo posso fare così di mio buzzo a naso bisognerebbe provare a fare delle prove per vedere quanto effettivamente diventa efficace la cosa è chiaro che se come dice Marco raddoppio la dose persiste di più sicuramente perché tu a quel punto immagina un cane di piccola taglia invece di mettergli un millilitro gliene metti due invece di mettergli 500 milligrammi gli metti mille milligrammi di permetrina gliene metti il doppio è chiaro che sicuramente persiste più a lungo in realtà sui bugiardini è riportato esattamente il periodo di trattamento quindi non sono due tre o quattro sono due settimane per una specie di flebotomo che da noi non esiste tre settimane per il perniciosus c'è stato un momento in cui erano quattro settimane negli anni passati ma poi è stato ritarato a tre ma il prurito non è dato tanto dalla permetrina ma in sé ma dal volume su cui o meglio dalla superficie su cui viene distribuita quindi mettere più permetrina se viene distribuita in una quantità maggiore di eccipiente su una superficie maggiore del corpo non cambia il livello di concentrazione di permetrina per centimetro quadrato di pelle uno degli altri aspetti con che ribadisco sempre è l'importanza dell'adiuvante cioè non è che basta prendere della permetrina e metterla con un qualsiasi adiuvante l'adiuvante negli spoton ha un ruolo fondamentale nel permettere un ottimale assorbimento dalle ghiandole sebacee e la successiva restituzione sul sul pelo gli oli a base di neem hanno l'effetto repellente quindi funzionano perché tengono lontano cioè rendono difficile al flebotomo localizzare il cane lo infastidiscono e fanno sì che non faccia il pasto di sangue che non è nulla di diverso dai prodotti che noi ci applichiamo normalmente durante l'estate per proteggerci dalle zanzare gli oli sono un po' più persistenti quindi durano un pochettino di più sulla cute ad oggi i lavori pubblicati non dimostrano un'efficacia per lungo periodo comparabile con quella dei farmaci topici che siano spoton o collari e quindi l'utilizzo di questi prodotti può essere in abbinamento comunque oppure per quei casi in cui effettivamente non ho nessun'altra possibilità perché prima qualcuno di voi citava problemi di intolleranza o ipersensibilità ai piretroidi e allora a questo punto utilizzo questi prodotti non è che non funziona il seresto quello che vi ho detto è il seresto è stato dimostrato che in canili ma anche in cani di proprietà ha queste protegge dalla dalla lesbagnosi cioè i cani protetti alla fine hanno una prevalenza significativamente inferiore rispetto ai cani non protetti quello che vi ho detto è che ad oggi non c'è una pubblicazione che correli questo con l'effetto anti-feeding come avviene per per gli altri prodotti perché non c'è un lavoro che abbia dimostrato che la flumetrina ha un effetto anti-feeding o repellente sui sui flebotomi qua mi sono perso ok qualche altra domanda Elisa mandami una mail e ti metto in contatto con Gaetano Oliva che è un clinico che ti sa rispondere sul sul dom sul dom peridone perché non sono un clinico ti direi solo delle sciocchezze delta deltamettina virbacchi incollare il defend dog no non non ho ricevuto non ho visto ancora nulla ma non ho visto L'efficacia è stata provata dai colleghi di Tolosa e hanno visto che ha un'efficacia anti-feeding che viene prolungata fino ai 12 mesi e per questo hanno ottenuto il claim, proprio perché c'è questo lavoro dove si è visto che l'effetto anti-feeding viene mantenuto elevato sopra il 90% per i 365 giorni. E anche per Paolo ti metto in contatto con Gaetano Liva sulla terapia perché non sono un clinico, già faccio abbastanza penare come parassitologo, figuriamoci come clinico. Ti riscrivo l'indirizzo mail. Ok, se non ci sono altre domande, grazie a tutti voi. Alla prossima, ciao! Grazie.